Buongiorno a tutti. Il video di oggi è dedicato agli astrofili che osservano il cielo con il binocolo. Vi parlerò infatti della Geoptic BinoPlus, che è una specifica montatura per binocoli astronomici composta da forcella, sistema a pantografo e trepede in alluminio. L'ho ricevuta in visione ovviamente da Geoptic che è l'ideatore di questa soluzione e costa 655,74 euro. Personalmente l'ho testato con il mio Dr. Aspectem come vedete 40x80 e con un classico 25%. Su binomania.it troverete come sempre una recensione approfondita ma io ve ne parlerò rapidamente in questo video subito dopo la breve sigla. Ci vediamo quindi tra poco. Grazie a tutti. Inizio con il confermarvi che montature come queste rappresentano una innovazione fondamentale nel campo dell'osservazione astronomica con i binocoli, soprattutto con i binocoli dritti, offrendo agli appassionati un ottimo livello di comfort e praticità. La caratteristica principale di queste montature infatti è il loro meccanismo a pantografo che permette di regolare l'altezza e l'angolazione dei binocoli in modo fluido e senza sforzo, mantenendo nel contempo l'oggetto celeste inquadrato anche quando una persona più bassa o più alta osserverà insieme a voi. Osservando la Bino Plus infatti ho percepito subito l'attenzione ai dettagli e la dedizione di Geoptic nel concepire questa montatura a pantografo o a parallelogramma. Ogni componente è stato attentamente selezionato sia per contenere il peso sia per assolvere la sua specifica funzione che è il supportare binocoli di medio grande diametro. Il treppiede è in alluminio, la forcella è in acciaio inossidabile mentre il braccio del contrappeso è di lamiera, verniciato però a polvere mentre gli spessori della culla sono di un particolare policarbonato che consente un serraggio ottimale rispetto ad esempio al teflon. È stata progettata per sostenere binocoli con un peso massimo di 9 kg usando due contrappesi da 5 kg, uno vi ricordo è già venduto nella dotazione. Ora vi mostro con attenzione i tre componenti principali. Il treppiede è realizzato interamente in alluminio ed è ottimizzato con un design a triangolo e un perno centrale. Le barre basculanti consentono una rapida stabilizzazione della struttura. Le leve invece una comoda gestione anche durante le fredde giornate invernali se doveste utilizzare i guanti. L'altezza massima raggiungibile da questo treppiede è di 1420 mm mentre il peso è di 6 kg. Sono presenti inoltre dei puntali in dotazione per terreni morbidi e per agevolare il trasporto è stata aggiunta una cinghia revombibile che è fissata a una delle tre gambe metalliche. Il pantografo, invece, pesa complessivamente 10 kg dimostrando una struttura che offre affidabilità e stabilità. È ottimizzato con un sistema di fessaggio al treppiede con passo M14 e ha dei cuscinetti di ampie dimensioni capaci di garantire dei movimenti molto fluidi. Le guide collocate sulla sua sommità consentono una sicura installazione della forcella. Tra le varie soluzioni adottate degna di nota anche l'opzione di estrarre la barra dei contrapesi per migliorare il bilanciamento dello strumento. Inoltre, grazie a un blocco dell'asse orizzontale che avviene tramite un semplice fermo meccanico, il pantografo si blocca in una posizione stabile, evitando i movimenti incontrollati. In questo modo si possono montare sia i pesi sia il binocolo in tutta sicurezza. Le viti per lo più a brugola comprendono anche alcune tradizionali viti a croce. La struttura è stata verniciata con polveri di epossi poliestere, il RAL 7035, che conferisce una notevole resistenza alle intemperie e alla formazione dei graffi. La forcella preassemblata per comodità include la culla interna che consente l'impiego di viti da un quarto. Avrei preferito vedere magari un passo da tre ottavi per i binocoli più pesanti. Il sistema di montaggio rapido ottimizza l'ancoraggio al pantografo tramite due ampie manopole. Le movenze della culla sono agevolate da componenti in policarbonato, i cui livelli di attrito possono essere regolati mediante due manopole. Un'ulteriore comodità rappresentata dalla presenza di una maniglia che si può utilizzare sia a destra che a sinistra, agevolando così i movimenti dell'intera struttura. Nell'articolo ho descritto minuziosamente la procedura di montaggio che avviene senza l'aiuto di nessuno. Vi invito quindi a leggerla. È solo necessario aprire il treppiede, fissare le gambe, montare il pantografo, bloccarlo, inserire il fermo, poi i pesi, il binocolo e osservare. Potete ovviamente anche decidere se usare i puntali per il terreno sofficio e gommini per la pavimentazione. Ho utilizzato, come menzionato in precedenza, principalmente il mio binocolo Dr Aspectem 40x80 e come suggerito ho dovuto utilizzare un altro peso da 5 kg per sfruttare totalmente la capacità di carico della Bino Plus. Io, non avendone ricevuti due di pesi, ho optato per un normale peso cinese che uso su una vecchia montatura astronomica della Skywatcher. Sono molto soddisfatto della facilità di montaggio del Bino Plus e avrei, forse solo preferito, sfruttare una bolla in dotazione per regolare meglio il treppiede sui terreni sconnessi come oggi, ma è sempre possibile comprarne una a poco prezzo. Ho condotto le osservazioni astronomiche presso la mia residenza, ma anche qui sul monte Sette Termini. Personalmente ho messo molto alla prova la struttura, visto che ho usato il treppiede totalmente estratto e il pantografo alla massima inclinazione. Rispetto alle classiche soluzioni che uso, quindi treppiede in carbonio con testa o con forcella, la montatura a pantografo Geotic Bino Plus si è rilevata ottimale per le osservazioni con un binocolo dritto, specialmente per osservare lo zenith. Per coloro che cercano un'esperienza osservativa meno veloce e più confortevole, è addirittura possibile sedersi comodamente sotto la culla del pantografo, magari con una sedia a straio decisamente comoda, e godersi lo spettacolo. Personalmente ho trovato molto apprezzabile la facilità con cui il pantografo permette rapidi spostamenti dalle nebulose agli ammassi stellari, impossibili da ottenere con un treppiede e una testa video classica. Va da sé che il treppiede completamente esteso e il pantografo inclinato verso lo zenith non assorbono rapidamente le vibrazioni, ma questo dipende da vari fattori, il peso, le dimensioni del binocolo eccetera. Inoltre le superfici su cui si appoggia il Bino Plus può avere un impatto significativo, meglio quindi optare per un soffice terreno erboso. La scelta tra l'estensione delle barre contrapesi e l'uso di un peso aggiuntivo è pertanto decisiva. Personalmente ho preferito la prima opzione, optare quindi per due pesi con una leva inferiore piuttosto che cercare un equilibrio esterno attraverso un'eccessiva estensione della struttura dove ci sono i pesi. Consiglio infatti di acquistare il secondo peso da 5 kg venduto da Geoptic per sfruttare al meglio questa montatura. Credo che il più grande vantaggio della montatura Geoptic Bino Plus risieda nella capacità di navigare agevolmente sfruttando l'effetto binocolo sospeso e di consentire degli agevoli spostamenti alla ricerca degli oggetti preferiti. Questo è più evidente rispetto a un tradizionale treppiede che può comportare invece continue regolazioni durante la stessa sessione osservativa, soprattutto per chi usa binocoli non angolati e vuole osservare con discreta comodità anche allo zenith. Inoltre risulta particolarmente adatta per consentire la visione degli stessi oggetti all'interno della stessa serata a persone di diverse altezze perché l'inquadratura della porzione di cielo rimane costante anche alzando o abbassando il pantografo. Direi che è giunto il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tra pregi direi che è impareggiabile per osservazione astronomica. Ha movimenti fluidi e rapidi. Si può montare e smontare da soli. Possibilità di regolare velocemente il bilanciamento durante la stessa sessione osservativa senza richiedere assistenza. Sistema di sicurezza molto semplice ma efficace che evita ribaltamenti improvvisi. È in grado di sopportare senza problemi binocoli classici angolati sino a 100 mm di diametro. Onestamente non ho provato con i binocoli da 120 mm per questioni logistiche. Considerando la capacità di carico dichiarata e in confronto alle poche alternative concorrenti il prezzo secondo me risulta veramente vantaggioso dato che con 600 euro a volte non si acquista neanche un buon treppiede in carbonio. Tra difetti direi che il peso è l'ingombro. Infatti le montature a pantografo sono più ingombranti e pesanti rispetto a un tradizionale treppiede fotografico rendendo quindi il trasporto meno agevole. Non è veloce quindi nella fase di installazione come un classico treppiede con testa. Personalmente inoltre avrei preferito la possibilità di bilanciare anche il binocolo tramite magari un piccolo sistema a pinza che consentisse la regolazione della piastra posta sotto il binocolo. La forcella e la culla come vedete non possono ruotare a destra e sinistra ma avendono parlato con i progettisti di Geoptic ho appurato che questa è stata una scelta progettuale volta a migliorare la capacità di carico, la solidità strutturale e anche la riduzione delle vibrazioni. In sintesi ritengo che la montatura Geoptic Bino Plus sia un prodotto ben progettato e costruito che richiede solo alcune piccole attenzioni nell'uso pratico per sfruttare appieno le sue potenzialità e i binocoli più pesanti. Geoptic è riuscita infatti a creare un prodotto commerciale che offre un equilibrato, mixtra prestazioni, capacità di carico che aumentano tantissimo con il treppiede più abbassato e prezzo di acquisto. Questa montatura è infatti ideale per coloro che amano osservare il cielo con binocoli classici ma altrettanto adatta per le associazioni di astrofili che necessitano di un supporto che permetta a loro non solo di navigare agevolmente attraverso il cielo ma anche di condividere l'oggetto celeste inquadrato con persone dall'altezza differente, come capita durante gli eventi osservativi. Seppur non sia compatta e leggera come un tradizionale treppiede con testa fotografica, offre un'esperienza osservativa completamente diversa e a tratti veramente entusiasmante. È senz'altro consigliata per i veri binofili che per me sono gli amanti del binocolo classico di medio grande diametro che lo utilizzano prettamente per osservare il cielo. Il prezzo è ottimo. Io termino qui. Ringrazio Ezio Bonafini di Geopti per aver messo a disposizione l'esemplare oggetto di questo test. Vi aspetto come sempre su questo canale. Per gli appassionati di binocoli e telescopi consiglio di visitare il sito ufficiale che binomania.it e per tutto il resto potete seguirmi sui social qui sotto in descrizione. Per aiutarmi a condividere la mia passione potete inoltre mettere un bel mi piace, magari iscrivervi a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni qui sul Monte Sette Termini e buone osservazioni a tutti. Ciao ragazzi! Ciao!